perché i medici ti dicono di non alzare pesi e soprattutto perché io ti dico di alzarli invece una delle caratteristiche fondamentali per contrastare la perdita di massa ossea è il carico meccanico ovvero la stimolazione meccanica tant'è che gli astronauti che stanno per mesi nello spazio dove non c'è gravità oppure gli allettati sono coloro che perdono più velocemente massa ossea e allora perché i medici mi dicono di non alzare pesi hanno mi romperò mi farò del male il loro approccio è sicuramente un approccio volto a evitare spiacevoli conseguenze soprattutto alcuni di loro non hanno approfondito quello che è il sollevamento pesi ma viene spesso demonizzato ingiustamente perché perché viene diciamo fatta una generalizzazione su questa attività infatti l'attività preventiva è adattata all'osteoporosi prevede il sollevamento di pesi ma come dice la parola stessa deve essere ritagliata su misura e quindi l'esercizio e l'attività contro resistenza andrà a dare degli stimoli in piena sicurezza e per questo che l'attività che ha successo nel mineralizzare l'osso e bloccare l'osteoporosi è l'attività che viene fatta in maniera supervisionata con un kinesiologo